Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare la Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 E se vieni proprio stasera c'è una sorpresa per te Si è svolta questa mattina presso Palazzo Gunela la conferenza stampa di presentazione del convegno dell'Università di Pavia che si terrà venerdì 27 novembre dalle 9 alle 13 presso il Centro Medicina dello Sport di Via Ugo Foscolo 11 a Voghera Presenti il docente e ricercatore dell'Università di Pavia, professor Giuseppe D'Antona Giuseppe Giovanetti, laureato in Scienze Motorie e responsabile organizzativo del Laboratorio Universitario per lo studio delle attività motorie nelle malattie rare il nutrizionista Massimo Negro e il sindaco di Voghera Carlo Barbieri Per D'Antona, direttore sanitario del Centro di Medicina dello Sport si tratta di un'occasione unica per la nostra città è la prima volta che la Facoltà di Scienze Motorie organizza un convegno di questo livello in cui interverranno i maggiori esperti italiani di nutrizione sportiva l'obiettivo è far sapere che a Voghera c'è una realtà fondamentale come questa struttura dove vengono svolte ricerche di alto livello soddisfatto il sindaco di Voghera Carlo Barbieri che ha sottolineato l'importanza di preservare un dialogo tra il comune ed il rettore dell'Università di Pavia così da potenziare la forte risorsa del centro di medicina gli enti pubblici hanno vincoli di bilancio e di distribuzione delle risorse che non rendono facili un certo tipo di scelte ma bisogna sempre cercare di guardare avanti potenziando quello che si è fatto sono le parole del primo cittadino durante la giornata di domani interverranno tra gli altri il medico della Nazionale Italiana di Calcio Luca Gatteschi il professore associato di metodi e tecniche delle attività motorie dell'Università di Padova Antonio Paoli e Carmine Orlandi nutrizionista dell'Università di Tor Vergata a Roma il convegno sarà dedicato al professore dell'Università di Pavia Fulvio Marzatico scomparso lo scorso anno sugli 61 anni docente al master di primo livello in scienze dello sport esperto di nutraceutica, micronutrizione e stress ossidativo fu proprio lui uno dei soci fondatori della SINSEB la scuola di nutrizione e integrazione dello sport domani nel corso del convegno il presidente di SINSEB Fabrizio Angelini interverrà in merito al tema della valutazione nutrizionale dello sportivo di elite e sarà proprio la SINSEB a consegnare nelle mani del professor D'Antona un assegno di 8.000 euro per sostenere la campagna di raccolta fondi online sul sito universitiamo.eu l'esercizio come elemento terapeutico aggiuntivo al comune approccio farmacologico ha un grandissimo potenziale crediamo che la sport terapia e la terapia nutrizionale possono contribuire a rallentare il processo di deterioramento della qualità di vita dei pazienti ha spiegato D'Antona per questo il nostro team è oggi impegnato nello sviluppo delle metodologie più corrette per lo studio delle componenti cerebrali e muscolari della fatica nonché della sua evoluzione in relazione ad interventi sport terapici e nutrizionali mirati il crowdfunding ha come obiettivo quello di raccogliere 20.000 euro da impiegare per l'acquisto di strumentazione utile allo studio e per finanziare borse di studio per brillanti laureati o dottorandi di ricerca con competenze specifiche